Prince Harry, Spear, il minore. Capitolo 25. Hugh ed Emily erano vecchi amici di papà. Vivevano nel Norfolk e spesso andavamo a trovarli per una settimana o due, durante le vacanze scolastiche o d'estate. Avevano quattro figli e Willy e io venivamo lasciati sempre con loro, come due cuccioli in un branco di pitbull. Giocavamo un giorno a nascondino e il giorno dopo a ruba bandiera, ma quale che fosse il gioco era comunque una scusa per un'enorme zuffa dalla quale nessuno usciva vincitore, perché non c'erano regole. Tirare i capelli, mirare agli occhi, torcere un braccio, stringere la gola, tutto era lecito, in amore e in guerra, e anche nella casa di campagna di Hugh ed Emily. Io che ero il più giovane e il più minuto avevo sempre la peggio, ma lo meritavo, visto che era quello che alzava sempre la posta e cercava la rissa. Occhi neri, libidi viola, labbra gonfia, ma non mi importava, anzi, forse volevo sembrare un duro, o forse volevo soltanto provare qualcosa. Quale che fosse la motivazione, nelle zuffe la mia filosofia era molto semplice, ancora vi prego. Noi sei davamo alle nostre finte guerre nomi storici. La casa di Hugh ed Emily veniva spesso trasformata in Waterloo, nella Somme, in Roxdrift. Ci rivedo mentre andavamo alla carica urlando Zulu. Le linee della battaglia erano spesse linee di sangue, anche se non sempre. Come non sempre eravamo Windsor contro altri, ma ci mescolavamo. A volte combattevo accanto a Willy, altre contro di lui. Senza badare alle alleanze, capitava spesso che uno o due figli, due dei figli di Hugh ed Emily, cambiassero bandiera e se la prendessero con Willy. Lo sentivo gridare aiuto, ed ecco calare su di me la nebbia rossa, come un vaso sanguigno che mi esplodeva dietro gli occhi. In quei momenti perdevo il controllo e la capacità di concentrarmi su qualcosa di diverso dalla famiglia, il paese, la tribù e mi lanciavo contro qualcuno, contro tutti, scalzando, tirando pugni, strangolando, facendo lo sgambetto. I ragazzi di Hugh ed Emily non riuscivano ad affrontarmi perché non c'era scampo. Toglietemelo di dosso, è pazzo. Non so quanto fossi efficace o abile come lottatore, ma riuscivo sempre a creare un diversivo sufficiente perché Willy potesse scappare. Lui controllava i danni fisici, si soffiava il naso e si lanciava di nuovo nella mischia. Quando la zuffa finiva davvero e ce ne andavamo zoppicando insieme, provavo sempre un grande affetto per lui e percepivo che Emily cambiava, ma con un certo imbarazzo. Ero la metà di lui, anche nel peso ero il fratello piccolo, quindi lui avrebbe dovuto salvare me e non il contrario. Nel corso del tempo quelle mischie divennero più accese con l'introduzione di piccole armi da fuoco. Ci lanciavamo addosso dei bengala oppure facevamo dei lanciarazzi con i tubi delle pale da golf o inscenavamo battaglie notturne con due di noi che difendevano un bunker di pietra in aperta campagna. Riesco ancora a sentire l'odore del fumo e il sibilo del proiettile lanciato verso la vittima, che aveva come unica armatura una giacca di piumino, le muffole di lana e forse gli occhiali da sci, ma non sempre. La nostra corsa agli armamenti ebbe una escalation, come succede sempre, e cominciamo a usare pistole ad aria compressa a distanza ravvicinata. Non mi capacito di come nessuno abbia riportato, meno mazioni ne abbia perso un occhio. Un giorno tutti e sei stavamo camminando in un bosco vicino alla casa alla ricerca di scogliattoli e piccioni da abbattere. Lì vicino c'era un vecchio Land Rover dell'esercito e Willy e i ragazzi sorrissero. Harold, salta su e allontanati, così ti possiamo sparare. Con che cosa? Fucile? No, grazie. Le stiamo caricando, quindi o salti su e te ne vai, oppure ti spariamo qui. E segui. Qualche istante più tardi, bang, i palettoni rimbalzarono sulla carrozzeria. Ridacchiai e premetti l'acceleratore. In un punto della tenuta c'era un cantiere. Hugh ed Emily stavano costruendo una casa nuova. E divenne l'ambientazione della nostra battaglia forse più feroce. Era quasi arrivato il crepuscolo e uno dei fratelli era nel guscio della casa nuova sotto un fuoco pesante. Quando si ritirò lo bombardammo con i razzi. Poi sparì. Dov'è Nick? Usammo una torcia. Ma niente Nick. Marciamo in avanti, decisi, e arrivamo ad un enorme buco nel terreno, quasi come un pozzo quadrato, accanto al cantiere. Sbirciamo oltre l'orlo e lo illuminammo con la torcia. Molto più in basso, Nick giaceva sulla schiena e si lamentava. Maledettamente fortunato essere vivo. Concordammo tutti. Che grande occasione ci dicemmo. Accendemmo dei petardi, di quelli, dei petardi. Accendemmo dei petardi, di quelli grossi e li lasciamo cadere nel buco.